Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro in collaborazione con lo SCICO hanno eseguito stamane 32 misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Catanzaro su richiesta della DDA del capoluogo calabrese. 11 le persone finite in carcere, 7 domiciliari, 13 obblighi di presentazione e di vieto di dimora in Calabria. Confermato il sequestro di beni per 12 milioni di euro tra cui il villaggio turistico Sayonara di Nicotera Marina. Inoltre sono stati apposti sigilli a tre ditte operanti nel settore turistico che si sono avvicendate nella gestione di uno stabilimento balneare a Nicotera Marina tutt'ora in esercizio e di un'attività commerciale a Mirano operante nel settore floricolo, tutte riconducibili a soggetti appartenenti ad una cosca d'Indrangheta e gemone nel Vibonese per un valore di circa 250 mila euro. Le indagini hanno consentito di delineare la gravità indiziaria sul gruppo criminale riconducibili ad una cosca operante nella provincia vibonese che avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà sussistenti nel territorio aveva acquisito il controllo di fatto di diverse attività commerciali soprattutto nel settore turistico alberghiero, tanto da condizionarne la gestione.